Buonasera, benvenuti 8 e mezzo sabato, buonasera, benvenuto Beppe Sala, sindaco di Milano, buonasera Marianna Aprile, giornalista di oggi, buonasera Massimo Galli, direttore del dipartimento di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, buonasera Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera. Allora come sapete questa è la settimana della moda, una settimana un po' speciale con sfilate vere, sfilate virtuali, comunque è un comparto fondamentale per l'economia italiana come sapete quello della moda e in tempi di pandemia ancora di più. Stasera la Sette fa una serata speciale perché dopo di noi potrete vedere in esclusiva e per la prima volta in televisione la sfilata di Giorgio Armani e subito dopo poi ci sarà il film Gigolo e Giorgio Armani è un uomo che di Milano e su Milano ha sempre detto delle cose importanti, per esempio dice che Milano non conosce la parola arrendersi e che lui l'ha scelta da sempre per la sua volontà di ricominciare ogni mattina, ma Milano può essere un modello per la ripartenza post-Covid subito dopo lo vuoi sta. Sindaco Sala, Milano è stata duramente colpita dal coronavirus e ha mostrato i suoi lati più fragili e anche quelli meno efficienti. Lei che cosa ha imparato in questa pandemia da coronavirus? Ma ho avuto delle conferme che Milano è una città resistente e responsabile, se uno cammina per Milano oggi la maggior parte delle persone sono in giro con la mascherina, la tengono su anche sufficientemente bene. E poi ho imparato qualcosa di più nel rapporto tra centro e periferie, su questo tema se ne parla molto, a volte anche a sproposito perché ci sono periferie e periferie, ma è successo qualcosa di anomalo, anomalo no se lo si approfondisce, però in questo momento è chiaro che il centro soffre molto, è questo evidente, ma le periferie un pochettino anche grazie al nostro intervento, abbiamo dato spazio ai ristoranti, ai bar, ecco e abbiamo spinto l'idea come sta facendo per esempio anche Parigi di questa Milano città in 15 minuti, cioè in un quartiere in 15 minuti a piedi o in bicicletta ci deve essere tutto, la gente ha riscoperto un po' i quartieri, quindi proprio statisticamente se si va a vedere i bar, i ristoranti, i frutti vendoli di periferie hanno sofferto molto di meno, è un piccolo passo ma è una lezione, non c'è altra via che un policentrismo vero. Senta Sindaco Milano da modello positivo, imitato e anche invidiato si è ritrovata un po' sul banco degli imputati nei mesi del lockdown, le accuse sono una città dove ci sono troppi soldi, si punta soprattutto al successo, al denaro, le privatizzazioni e quindi forte esclusione sociale, lei cosa replica le critiche? No, privatizzazioni, noi abbiamo il controllo dei trasporti pubblici, degli aeroporti, dell'energia, dell'acqua, non c'è nessuna città in Italia che è così pubblica, in realtà c'è una grande solidarietà. Mi scusi, è la sanità che invece è un po' troppo poco pubblica a Milano e a Lombardia? Ovviamente da questo punto di vista, adesso è inutile dire che è un problema della regione perché è un problema di tutti, certamente un'altra lezione imparata è che si è perso il controllo della gestione territoriale e della sanità, però come sempre è inutile che stiamo qua oggi a cercare di metterci delle medaglie perché non ha senso, qualcosa dobbiamo certamente imparare in questa fase. Allora io penso che sia il momento di intervenire sulle gracilità, per esempio la questione dell'abitare è fondamentale e oggi è, come in altre città, difficile pagare gli affitti. Io penso che i cittadini devono avere una casa e un lavoro e poi possono desiderare altro, ma senza la casa e il lavoro è un bel problema. È un bel problema. Quindi Milano sta vivendo un momento non semplice, però voglio dire solo una cosa, guardi io non uso mai questo tema del modello Milano, ma vediamola in questo modo, se il modello vuol dire che ci sono delle componenti sottoforti, università, industria, creatività, prima o poi ne esci, bisogna avere fiducia e bisogna che la politica abbia la modestia di guidare ma di sapere che da solo non fa quasi nulla. Allora, adesso interpello subito tutti i miei ospiti su questo modello Milano e la sua efficienza. Professor Galli, da milanese e in primissima linea contro il Covid, quali sono le fragilità più gravi che ha messo in evidenza la città di Milano? E invece che cos'ha Milano che altre città italiane non hanno? Ma in questo ambito non posso che dichiararmi di parte, io sono nato a Milano con radici milanesi che definirei remote e quindi mi sento molto cittadino della mia città, anche se mi sento, anche se sono su quali parole un po' in libertà, ma mi sento anche cittadino del mondo in realtà, ma a Milano voglio molto bene, mettiamola così. Probabilmente un po' di strade sono state dimenticate o trascurate negli ultimi anni e in particolare nell'ambito sanitario è un dato di fatto che ci troviamo di fronte ad una situazione nazionale, potrei dire, di riduzione per molti anni degli investimenti e soprattutto per quanto riguarda la situazione lombarda e milanese avremmo avuto bisogno di molta più medicina territoriale organizzata in chiave anche moderna, in chiave di strutturazione, capacità di strutturazione degli interventi e delle misure necessarie anche in caso di emergenza e forse meno di una politica di eccellenze che si sono tantissimo basati sul privato. Io lavoro in ospedale da oltre 40 anni e sono sempre stato un uomo della sanità pubblica e tutto questo chiaramente non l'ho mai particolarmente amato. Non credo che sia stata la via giusta e lo stiamo anche un pochino pagando ora un pochino. Stiamo pagando ora per una serie di errori fatti. Mariana Aprile, tu hai detto che hai scoperto il lato negativo dell'essere una città cosmopolita riferendoti a Milano. Perché? Sì, in realtà credo che l'abbia scoperto Milano questo lato negativo, nel senso che tutto quello che ha reso in questi anni unica in Italia e attrattiva non solo in Italia, Milano, cioè l'apertura, la porosità, la velocità, l'inclusione, l'inclusività, si è rivelata essere con l'emergenza pandemica in realtà una debolezza. Perché in quel movimento, in quell'inclusività è entrato anche il nemico e quel nemico l'ha messa in crisi quelle fondamenta del modello Milano. Ora so che il sindaco non ama la definizione ma insomma per brevità lo chiameremo così. Ed è un nemico che ha messo in evidenza il fatto che quella, passatemi il termine, quella bulimia di interconnessioni, di conoscenza, di scambi, può portare anche cose negative in casa. Cose negative che svelano un difetto che Milano forse in questi anni ha avuto e che si ricollega a quanto diceva il professor Galli. La politica delle eccellenze nella sanità era un po' la versione sanitaria di un'altra politica diciamo più estesa che era quella di uno storytelling assolutamente positivo, fondatissimo ma solo positivo, che non raccontava per esempio le fragilità di questa città che sono venute fuori durante la pandemia, per esempio il lavoro povero, il lavoro fragile connesso a quelle eccellenze e che quelle eccellenze rende possibili. La pandemia ha svelato il lato B, il lato oscuro di quella forza da cui però credo che Milano abbia tutti i numeri per ripartire rinegoziando quel modello alla luce delle fragilità che è stata costretta ad ammettere. Quando le cose vanno bene non si ammettono facilmente i punti deboli, adesso siamo stati tutti costretti e lo dico da innamorata matura di questa città, ci ho messo molto a innamorarmene e adesso lo sei. Adesso lo sono. E anche Paolo Mieli, anche lei è innamorato di Milano e adesso sindaco poi lei avrà un lungo diritto di replica. Ricomincio da Mieli perché siccome c'è chi pensa e ha anche scritto che il modello Milano è la più strutturata e fortunata operazione di marketing politico dai tempi della Milano da bere, è così? Assolutamente no. Milano è una città che ha una marcia in più. Adesso diciamo, quest'anno se ne è presa di tutti i colori, è venuta fuori una invidia, quasi un rancore nei confronti di Milano. Ma Milano ha questa storia nei suoi cromosomi. Guardate, Milano non è che fino a oggi era magnifica e poi ha avuto la pandemia. Milano ha avuto, dopo guerra, quando è caduto il fascismo, alla fine della guerra, mentre Roma festeggiava l'arrivo degli americani, il macarbo spettacolo di Piazzale Loreto. Poi ha avuto una conflittualità altissima nei primissimi anni dopo guerra. E ogni volta c'era qualcuno che diceva, è Milano, povero Milano. E poi il momento dell'industria, l'immigrazione, la Milano di Rocco e i suoi fratelli. Andate a rivedere il film di Visconti, Rocco e i suoi fratelli. Gli anni del terrorismo, Tangentopoli. Piazza Fontana, il terrorismo, e poi la Milano da bere, e poi Tangentopoli. E ogni volta, fino all'Expo, che Sala ricorda, ogni volta qualcuno che dice, beh, è finita. Milano mostra la corda, non è più la stessa. Milano è forte perché Milano si rialza. Io sono milanese, nato a Milano, anch'io di famiglia come il professor Galli, per metà solo. Però mi piace questa capacità di rialzarsi di Milano. Sono contento. E un difetto, invece, di questa meravigliosa città? Il difetto è quello che l'ha portata ad avere tutti gli inciampi che ho elencato e altri avrei potuto. Una certa mancanza di trattenimento. C'è uno spirito che quando si imbocca una strada, la Milano da bere si beve troppo, la Milano industriale si industria troppo. Si trascurano i problemi che sono connessi ai grandi entusiasmi. Questo è il vero difetto di Milano. Però, ripeto, quando cade Milano si rialza. Altre città... Poi ho visto quella foto, ha ragione anche qui il professor Galli, quello skyline. Ma quale altra città italiana ha avuto negli ultimi 10-20 anni un cambiamento di volto come Milano? Se me la sapete citare? Beh, insomma, Milano è anche questa. Allora, Beppe Sala è in realtà un diritto di replica, ma le critiche sono abbastanza flebili alla sua città e anche alla sua gestione. Quindi uno, ha ragione Giorgio Armani quando dice che Milano non conosce la parola rendersi. E due, però, quando, ed è un po' questo sì, lo hanno detto tutti i miei ospiti, c'è la politica delle eccellenze. C'è stata, come dice Mariana Aprile, una bulimia anche su questo fronte e anche Paolo Mieli lo diceva. Perché non si riesce a trovare un equilibrio? È vero quello che è stato detto. Io mi sento in parte anche responsabile perché sono stato uno stimolatore dell'orgoglio milanese. E questo è un sentimento positivo che a volte porta a qualche problema. Però oggettivamente questo dovremmo un po' impararlo. Forse un po' più di misura non guasterebbe. Forse la capacità di, anche quando le cose vanno bene, guardare un po' i difetti, non guasterebbe. Quindi io mi sento tutta la responsabilità addosso di tutto ciò. Però, diciamo, Milano in questa fase, mettiamola anche in un altro modo, ha resistito veramente bene. Ed è stato una cosa veramente tragica e un errore di gestione veramente significativo. Ma poteva andare molto peggio. E non lo dico di nuovo per dire ma tutto sommato. Perché avrebbe travolto la sanità lombarda e forse italiana. Quindi insomma Milano, mi scusi sindaco, Milano resta il modello da seguire per il resto d'Italia, per la ripartenza in tempi di coronavirus? Restano alcune cose che ha solo Milano. La capacità di mettere insieme pubblico e privato per un unico intento. Secondo me c'era solo Milano. Senta, Beppe Sala, ma lei si ricandiderà l'anno prossimo a sindaco di Milano? E sarebbe disposto ad accettare il sostegno del Movimento 5 Stelle? Parliamo di... Lui ha avuto un incontro con Grillo. Eh sì. Non ci ha mai raccontato bene. Ecco, ce lo racconti. Intanto se si ricandida. Beh, mi fa questa domanda sapendo che non rispondo. Ho detto ieri, guardate, in questo momento credo che fare sei mesi di campagna elettorale sia già molto, fin troppo, perché sarà una campagna particolare, sarà necessariamente low cost, quindi si vota a maggio-giugno dell'anno prossimo, cioè se si decide anche fra qualche mese, in novembre, così male non fa. Riguardo al Movimento 5 Stelle invece voglio dire una cosa precisa. Io ci parlo e poi che piaccia o non piaccia, io stimo Grillo. Credo che se si dovesse votare domani, se io fossi candidato, probabilmente è più saggio che il Movimento 5 Stelle si presenta da solo, che presenta la sua proposta e che io continui a presentare la mia visione di Milano. E quindi magari si incontra con loro al secondo turno. Beh, questa è poi la tattica politica che sempre ci sta, per l'amor del cielo, ed è difficile fare dei ragionamenti prima. Però io ne parlo con molto rispetto e diciamo, c'è una controprova. Io sono tra i primi a dire parliamo con il Movimento 5 Stelle. Ma signori, in Italia se non hai il 40% non governi. Quindi per la PD e per la sinistra esistono altre alternative? No. Per cui io sono tra i primi a dire parliamo con il Movimento 5 Stelle. Se poi mi chiede specificamente su Milano cosa conviene fare, conviene portare avanti due proposte anche diverse. Abbiamo due visioni diverse e poi si vedrà. Senta, ma parlando di governo, il governo Conte è all'altezza di questa sfida della ricostruzione post-Covid e soprattutto adesso di gestire bene la fase del Recovery Fund? Anche qua non mi voglio citare, ma io non credo che si debba parlare di un rimpasto di governo adesso per come sono andate le elezioni. Io l'ho detto da qualche mese, il compito è così difficile che io credo che sia il caso di creare una compagine governativa di ministri assolutamente all'altezza. Quindi lei pensa che ci vorrebbe almeno un rimpasto? Un cambio di governo? Un cambio di governo, un cambio di premier? Non l'abbiamo capito bene, vero? Cioè quel discorso che ha appena fatto. No, il cambio di premier non è questo punto. Non è questo il punto. Sostituire da quello che, se ho ben capito quello che lei ha detto, sostituire alcuni ministri che sono iradeguati con dei ministri adeguati. Ho capito bene, questo era quello che lei voleva dire. L'aumento sul meno esperti, meno esperti politicamente e tecnicamente che magari è un po' più elegante, ma non cambia. Però in questo momento io penso che non sia sbagliato che i leader dei partiti che sostengono il governo siano nel governo. Io penso che non sia sbagliato. Poi Zingaretti giustamente dice ma io non chiedo nulla eccetera eccetera. Però guardate, il momento è difficilissimo. Ma Zingaretti lo vedrebbe bene in quale ruolo, mi scusi Sara, vicepresidente del Consiglio? Perché ci sono i retroscena che dicono che Zingaretti questo potrebbe fare. Scusi, lei sarebbe disponibile anche per il governo? No, io non sarei disponibile perché questo è un momento talmente critico per Milano che assolutamente no. Zingaretti dovrebbe fare il vicepremier? Guardi, al di là del ruolo dovrebbe essere secondo me parte attiva del governo. Il momento è difficilissimo. Lei chiedeva alle recovery fan, guardi cosa stanno facendo i francesi e cosa noi. I francesi hanno detto, e Macron in prima persona con molta chiarezza, noi vogliamo costruire un'idea di futuro della Francia che si basa su le tematiche ambientali, di innovazione, di competenze e di equità sociale. Poi sui progetti vediamo a gennaio. Noi stiamo facendo il contrario, ci stiamo scatenando sui progetti. In questo momento alle città metropolitane è stato chiesto di esibire una lista di progetti per i quali il recovery fan può portare risorse. Ecco, insomma, io vorrei solamente continuare a stabilire il mio credo nel ruolo del governo, della politica e del pubblico, però bisogna sapere che il momento è difficilissimo. E che quindi ci vuole qualche aggiustamento. Professor Galli, perché in tutto questo naturalmente il momento è difficilissimo, perché il coronavirus continua a essere tra noi. mai dimenticarlo, anche perché l'autunno si sta presentando, diciamo, molto, molto difficile negli altri paesi europei, già lo stiamo vedendo. Perché lo è più negli altri paesi che in Italia? Ricordiamo, no? Gran Bretagna, Francia, Spagna hanno molti più casi. La Gran Bretagna minaccia addirittura un lockdown. Come mai, professor Galli, gli altri paesi sono messi peggio di noi e questo rappresenta un rischio ovviamente per noi, visto che le frontiere sono aperte. E la settimana della moda a Milano la vede complicata? È un rischio che si corre anche in questo caso? Guardi, per quanto riguarda il motivo per cui noi stiamo meglio degli altri, mi viene fatto di pensare, ma non ho certezze, che questo derivi da un lockdown estremamente più serio e deciso di quanto, alla fin dei conti, hanno fatto in altri paesi. Poi, verosimilmente, c'è da pensare che l'estate di altri paesi sia stata un'estate ancora più avventurosa della nostra, che pure una serie di segnali, ahimè, non positivi li ha dati, no? Con comportamenti che non sono sempre stati ortodossi. Ora dovremo vedere davvero cosa accade nei prossimi 15 giorni e chiedo scusa, ma siamo sempre a dire ad aggiungere 15 giorni, perché comunque in questi 15 giorni sono successe varie cose. Mi auguro che l'apertura delle scuole non abbia poi però questo grande impatto. Sono giusto in questo momento, ancora in una località che in questo momento mi è diventata molto cara, Castiglione d'Adda, dove abbiamo fatto una ricerca importante, qui ci viene molto evidente un dato importante, che nei bambini sotto i 10 anni abbiamo meno del 10% di avvenute infezioni, più del 40% nei novantenni. C'è da pensare quindi che nei bambini, nei più giovani, non solo la malattia colpisca meno duramente quando si installa il virus, ma che il virus riesca a installarsi con molta maggior difficoltà, cioè che i bambini e i più giovani siano meno suscettibili all'infezione. Professor Galli, ma questo con l'apertura delle scuole e tutte le attenzioni del caso un po' aiuta, ecco, molto positivo. Ecco, mi dica solo se la settimana della moda è un rischio per Milano, telegrafico. Non so quante persone sposterà, la raccomandazione è sempre una e una sola. Evitare assembramenti, evitare concentrazioni di persone, in particolare in locali chiusi, tenere il distanziamento e tenere la mascherina. Beppe Sala, chi ha pensato di sfilare in assoluta sicurezza è Giorgio Armani, che fa la sua sfilata stasera a porte chiuse. E ha scelto la sette per mostrare, Urbi e Torbi, la nuova collezione. E quindi noi siamo felici che abbia scelto la nostra rete. E dicevamo prima che Giorgio Armani ha sempre avuto delle parole di elogio per la sua città. E stasera tutti gli ospiti hanno detto che vogliono bene a Milano. Ora, lei che cosa vuole dire al suo cittadino Giorgio Armani? Di continuare a mettere frutto la saggezza della sua età. Tre cose. In febbraio lui è stato il primo a dire non sfiliamo. Mi ha chiamato alle 11 di sera e mi ha detto Beppe, ma se domani non faccio sfilata cosa ne pensi? E io gli ho detto fai bene. La seconda cosa, per dare un contributo alla città, però adesso ha portato la sfilata di Armani Privé da Parigi a Milano. La terza cosa, ha detto ma se forse producessimo un po' di meno, noi della moda non sarebbe sbagliato. Allora, non so fino a che punto è vero, eccetera, eccetera, ma è un uomo che con l'età sta mostrando saggezza e coraggio di opinione che sono importanti per la nostra città. Ecco, allora vi faccio vedere un saluto speciale a Giorgio Armani. Glielo vuole fare Anna Foglietta, una specie di ambasciatrice di Armani e una donna che da sempre veste Giorgio Armani, come me peraltro, devo dire, ma da tempi non sospetti, da quando ero una giovane giornalista, anche perché poi ne parliamo, perché per uomini e donne Armani ha rappresentato veramente una svolta. Sentite Anna Foglietta. Buonasera Lilli e buonasera a tutti gli ospiti di questa puntata di 8 e mezzo. Mi sarebbe molto piaciuto essere lì con voi, ma sono impegnata sul set, è una produzione anche piuttosto complicata, per cui devo appunto mandarvi un semplice video, però ci tenevo perché credo che questa iniziativa anche di celebrazione del Made in Italy che si incarna perfettamente nella Maison di Giorgio Armani sia importante, perché l'Italia quest'anno più di sempre secondo me è riuscita a dare un segnale di grandissimo orgoglio nazionale e anche un segnale agli altri paesi. Innanzitutto con il nostro Made in Italy, ma poi anche con la mostra del cinema di Venezia, di cui sono molto lusingata ad essere stata la madrina e in più anche per i segnali che stiamo dando per contenere il Covid-19. Solo dobbiamo essere fieri e se si pensa al Covid-19 si pensa soprattutto alla Lombardia, a Milano, una città che io amo moltissimo. Per cui insomma era un modo per essere lì con voi e per darvi tutto il mio sostegno, soprattutto alla città di Milano e al Made in Italy. Come possiamo lo facciamo ed è giusto farlo. Evviva! Ciao a tutti! Mariana Aprile, vogliamo cercare di capire perché Giorgio Armani è stato ed è così importante per le donne? Secondo me perché è riuscito in una cosa apparentemente impossibile, e cioè nel saper vendere come pochi altri il sogno della moda, cioè Armani non solo in Italia, nel mondo è l'eleganza femminile, soprattutto, poi anche maschile, ma insomma parliamo di donne, è l'eleganza. Però è riuscito a farlo senza costringere le donne in un'idea di eleganza. È come se, prima parlavamo della difficoltà di trovare una misura, no? Ecco, Giorgio Armani è riuscito a trovare una misura neutra in cui, attraverso la quale ciascuna donna, ma anche quella che poteva solo sognarlo un abito di Armani, poteva declinare la propria idea di femminilità. Castigata, non castigata, audace, sbarazzina, è stato tutto, ma è stato tutto senza la pretesa di costringere il corpo della donna e la femminilità all'interno di un'idea precostituita, che è un difetto che hanno molti stilisti. La creatività di uno stilista, in fondo, è anche quello, no? È sapere imporre un modello. Lui ha fornito degli strumenti per esercitarlo, quel diritto alla femminilità, e declinarlo come ciascuna voleva. Ecco, io penso che un contributo fondamentale che ha dato Giorgio Armani con la sua idea di moda e la sua idea di donna da vestire è stato vestire la donna che lavora, soprattutto con la giacca, perché la giacca, ricordiamoci poi le giacche, avevano delle spalline importanti tanti anni fa e quindi la giacca è diventata come una specie di corazza per molte donne che si avventuravano con tutti i rischi in un mondo esclusivamente maschile e in un mondo in cui dovevano affermarsi in parte ancora oggi, però insomma, tanti passi avanti sono stati fatti. E quindi questo, secondo me, è stato molto, molto importante per le donne, che poi la giacca fosse firmata a Giorgio Armani o anche non, ma la giacca è diventata una specie di divisa per le donne che volevano affermarsi nel mondo professionale. Ma Paolo Mieli, le volevo chiedere, perché è stato molto importante anche per voi uomini, noi dopo la puntata di 8 e mezzo vedrete la sfilata in esclusiva di Giorgio Armani primavera-estate 2021 e dopo ci sarà un film mitico che si chiama American Gigolo. Allora, American Gigolo ha fatto diventare Giorgio Armani famoso nel mondo, parliamo degli anni Ottanta e anche il Made in Italy in questo modo. E' stato fondamentale per gli uomini perché avendo costruito una moda e avendo destrutturato, diciamo, il classico abito maschile, ha reso gli uomini, o ha dato questo messaggio, che un uomo potesse essere elegante ma non formale, sexy senza essere necessariamente bello. Quindi è stato molto importante anche per voi uomini. Adesso non dico quanti anni fa, che i due fenomeni nuovi della televisione, sul piano femminile lei e sul piano maschile Michele Santoro, si presentavano, cioè due personaggi che non venivano certo dal mondo della fighettaggine, ma insomma dei combattenti, si presentavano in televisione vestita da Armani. Mi sono più volte interrogato, ma come mai? Perché? In parte per quello che ha detto lei, perché era un modo di vestire elegante ma normale, non cafone, insomma non quelle eleganze che si vedevano. E poi perché evidentemente, guardi che non è mai successo nella storia dello stile che si affermassero attraverso campioni, mi permetta la metto, fra i campioni dell'area progressista o comunque innovatrice, è stato il primo, è come se nel 1917 uno stilista dell'epoca avesse fatto vestire Lenin di vestiti Armani. Qui parla lo storico, eh! Io ne posso anche dire... Oppure nel mille, non adesso, ma nel 1970 il professor Galli che era un militante della parte più innovatrice della sinistra e sta parlamentare. E anche lì Armani è riuscito in questo, è riuscito a vestire... Con la cravatta. Eh? Lei aveva la cravatta? Era un combattimento. Portavo la cravatta. Un sessantettino con la cravatta. Un sessantettino con la cravatta. Armani spero, una cravatta. Io devo dire così, visto che trattiamo un tema solo fintamente frivolo, devo dirle che quando ho cominciato a fare la giornalista e lavoravo in una televisione privata a Bolzano e andavo in televisione, conducevo il telegiornale e poi dopo, in Rai, tanti anni, ho comprato con i miei primi risparmi una giacca di Giorgio Armani perché mi sembrava che fosse la cosa di cui avevo bisogno. Credo che anche Santoro l'abbia comprato con i soldi suoi. C'era anche questo... No, sicuramente con i soldi di lei, ma con i primi risparmi. Appunto, ma si vede questo. Se un personaggio che è stato importantissimo nella storia della televisione italiana come Michele Santoro impegna i suoi primi soldi, anche lui saranno i primi o i secondi, ma insomma perché non mi sembra che sia ricco di famiglia, per comprarsi una giacca d'Armani, a me parla. Io non ho mai fatto pubblicamente questo tipo di considerazioni, però qualcosa significa che Milano riparta con Armani. Guardi, anche questo... Ci torneremo fra sei mesi su questo argomento. Perché è importantissimo, perché è un modo di non chinare il capo a quegli insulti che Milano e Lombardia si sono presi, quel dileggio, ecco, diciamo così, nei mesi scorsi e ripresentarsi a testa alta con un nome che parla da sé e con noi che questa sera, in modi diversi, ma gli rendiamo omaggio. Sì, anche perché ricordiamo che il comparto della moda l'anno scorso valeva in Italia 90 miliardi di euro e quest'anno 48, quindi insomma sicuramente è un comparto fondamentale. Senta, Professor Galli, rapidissimo, lei in qualche modo ha lavorato con Armani? In che modo? Ma innanzitutto, guardi, do un'anticipazione. Io la sfilata l'ho già vista insieme al signor Armani in anteprima, andando da loro per concertare la prosecuzione di uno studio, un vero e proprio studio che guardando molto avanti Giorgio Armani e il suo staff hanno voluto fare sulla prevalenza della infezione nella loro azienda e su tutti i meccanismi, una specie di laboratorio per andare avanti a vedere quel che eventualmente venisse a succedere rispetto a questa infezione nell'ambito del loro gruppo di lavoro esteso. E questo credo che sia utile, che ci fornirà e che ci ha già fornite informazioni e che sia un modo per interpretare le cose guardando molto avanti e mettendosi anche al riparo di possibili rischi, voglio dire. Cosa lo colpisce di più di Giorgio Armani? Mi dica una cosa che l'ha colpita. Bene, io credo che lui sia un uomo estremamente creativo ed estremamente pieno di volontà e di vita anche essendo in questo momento diversamente giovane. Io per 35 anni mi sono occupato di AIDS, di malati di AIDS e di lotta contro l'AIDS. Lui è stato veramente una figura di grande contributo anche in questo e ultimamente anche un generoso donatore per la ricerca sulla coronavirus. Non posso non dirle queste cose se non posso soltanto sottolineare. È giusto farlo ed è giusto anche ricordare che Milano non è solo moda ma è anche design e questo ce lo ricorda bene Paolo Pagliaro nel suo punto. L'annullamento del Salone del Mobile il più importante appuntamento mondiale del settore casa arredamento è stato forse il prezzo più alto che l'economia milanese ha dovuto pagare all'emergenza coronavirus. C'è dunque grande attesa per la Milano Design City 350 appuntamenti legati alla cultura del progetto in programma dalla prossima settimana al 10 ottobre con la regia del Comune una straordinaria mobilitazione di aziende, associazioni istituzioni culturali studi professionali. È il primo grande appuntamento per provare pur tra mille precauzioni a voltare pagina. Tutto comincia in aprile quando 10 aziende lanciano il loro manifesto per la ripresa si chiamano Bisazza, B&B Italia Boffi, Cappellini, Cassina Flexform, Giorgetti Minotti, Molteni e Poltrona Frau avanguardie di uno dei settori strategici della produzione italiana quello dell'arredo e design con 20.000 imprese attive 130.000 addetti 23 miliardi di fatturato e un export che supera il 60%. All'appello aderiscono gallerie, scuole fondazioni, la Triennale l'Associazione per il Disegno Industriale e il Politecnico Il risultato lo si vedrà da lunedì nei distretti del design di Via Durini Brera Cinquevie Santa Sofia Molino delle Armi e in decine di altri luoghi di Milano Vedranno la luce molte nuove collezioni perché le teste e le matite hanno continuato a funzionare anche nei mesi della segregazione Le iniziative sono state spalmate su 10 giorni in modo da dare più tempo a chi desidera partecipare evitando assembramenti E siamo in chiusura io ringrazio Marianna Aprile grazie professor Galli grazie Paolo Mieli grazie sindaco Sala che ci ha lasciato qualche minuto fa e adesso vi lascio alla serata speciale della Sette con l'esclusiva della sfilata di Giorgio Armani collezione primavera estate 2021 e a seguire c'è il mitico film American Gigolo e noi ci rivediamo come sempre lunedì 8 e mezzo ma intanto stati con noi arrivederci grazie grazie grazie